Per quanto riguarda le industrie dello siroppato e anche per quanto riguarda l'industria delle creme, dei cromogenati, ci risulta che i magazzini sono vuoti. L'anno scorso c'era un'annata di scarsità di prodotto, stiamo parlando in questo caso di pere, per cui le quantità trasformate hanno permesso a malapena di arrivare a congiunzione con la nuova campagna. Quindi c'è interesse per il prodotto quest'anno? Direi che sicuramente c'è interesse trasformare perché appunto le industrie hanno i magazzini vuoti. Presti quindi? Presti, questo qui è l'argomento più difficile da trattare, pur essendo un'annata non eccezionale dal punto di vista delle produzioni, perché altre volte ci siamo già trovati a dover lavorare con produzioni simili a quelle che ci attendiamo per quest'anno. Ci confrontiamo con un'annata che era sì eccezionale quella scorsa, in cui le produzioni invece erano limitate. Quindi c'è difficoltà oggi a fissare un prezzo e a definire un prezzo. Difficoltà che riguarda soprattutto per quelli che hanno l'esigenza di vendere in questo momento le pere William. Per chi invece le conserva? Per chi è in una struttura organizzata il discorso è più ampio in questo senso. Noi abbiamo la possibilità di stoccare le pere in magazzini frigoriferi e abbiamo 4-5 mesi di tempo per rimettere sul mercato se parliamo di pere William. Questo qui ci dovrebbe permettere di cogliere anche eventuali momenti migliori di mercato rispetto a quelli attuali. Oggi risentiamo di due effetti psicologici secondo me, una chiusura della campagna abate negativa e una campagna pesca che possiamo definire quanto meno disastrosa. Questi due effetti condizionano probabilmente l'approccio alla campagna pere 2011, ma ripeto per me non è una campagna eccezionale perché abbiamo più volte affrontato questi convolumi che oggi ci accendiamo. Hai parlato di un effetto negativo che la pesca poi ha indotto. Riguardo al prodotto pesca, l'industria, come si sta muovendo e come si è mossa? Per quanto riguarda l'industria dei cromogenati delle pesche, le industrie si sono mosse su valori simili a quelli dello scorso anno e dell'anno precedente, ovvero sia con oscillazioni che vanno a seconda del tempo di maturazione, delle qualità e delle disponibilità, con prezzi che oscillano dai 7 ai 9 centesimi, 10 centesimi per quanto riguarda il prodotto indifferenziato. Una novità può essere rappresentata da quello che la comunità europea ha deciso la scorsa settimana, che è quella di aumentare l'indennità di ritiro per quanto riguarda le pesche nettarine e indennità che dovrebbe avere anche un valore retroattivo dal 19 di luglio, per cui questo qui dovrebbe permettere di alzare un pochino l'asticella per quanto riguarda i prezzi dei prodotti industriali, portandolo almeno attorno ai 12 centesimi.